Stavolta un po' mi vergogno sinceramente Ma vediamo chi la capisce Oh silenzio, silenzio Un attimo Alessandro, Alessandro che vi racconta il nome Allora Ascoltate bene Già faccio vedere Ci sono due pomodori in un frigorifero Uno fa l'altro Mamma mia che freddo E l'altro Ah un pomodoro che palla Era bellissimo Alessandro Grazie 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 Alessandro E' stato bellissimo Per condividere E' veramente molto bella Molto bella Andiamo 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 Ma va detta una cosa Allora abbiamo fatto tre volte l'angolo della barzelletta la prima volta è stato comico e poi è stato un crollo e questa sera abbiamo toccato il fondo direi vuoi recuperare? ce n'è un'altra? domani? a Catania? che fortuna! la Catania è una ragazza da Catania la sicilia è in trepitazione allora ragazzi che volete fare? volete fare un saluto speciale? volete... non lo so volete scendere giù? allora via, buttati qui di sotto vai buttati qui di sotto vai per lì uno due non passano non passano non passano e mi salutano così